ragazzi eccomi mi sentite si prof mi vedete purtroppo si prof dunque ragazzi io non sono tanto brava con questa tecnologia dovete aiutarmi per esempio qui come si attiva una chiamata come si può parlare a distanza come metto lo schermo intero premalta f4 grazie mille ma questa qua una cogliona ma io sono pazito ma guarda che il prof mi deve interrogare quando dirò certo prof tu stacca il wifi così lo freghiamo d'accordo e va bene ma solo per questa volta grazie massa è la numero uno mangiolo professore ma che piacere rivederla anche per me adoro interrogarla prego chieda pure tutto mi parli della biodiversità certo prof allora la biodiversità è mi dica mi dica certo prof la biodiversità è quella cosa che si sentite un po' si senti rinze quella quella mangiolo la sa o non la sa certo prof certo un cazzo gli metta due non ha studiato come al solito no no povera sua madre la contenterò no 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 ma no prof no la prego la prego è soddisfatto marangiolo certo prof ma va a cagare dai bene iniziamo l'interrogazione mi parli del rinascimento bella a tutti ragazzi e benvenuti a questo nuovo video io sono favij e oggi siamo su pelati simulator ostuni ma cosa sta dicendo divertiti a perculare il tuo professore pelato e ridi delle sue disgrazie ma cosa sta facendo ostuni guardi che questo non è un gameplay eh ignora le sue banali domande ma adesso mi sta facendo incazzare e ridi di gusto sentendo le sue urla incontrollate lei è espulso dalla mia lezione ma tanto a fine anno vi promuovono tutti e l'ultimo dell'appello malnati 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 l'impero romano si sviluppò nel marangiolo ma cosa fa mangia perché non si può ovvio ci figuri vuole anche un bel secondo volentieri e un contorno lo gradisco e magari dopo ci mettiamo anche un buon caffè eh ah col digestivo grazie se no non lo ma stiamo scherzando o cosa io sto spiegando questa è una lezione non siamo mica a quattro ristoranti ristoratori questa video lezione mi piace voto 10 no vabbè ma qua siamo tutti pazzi ragazzi buongiorno oggi faremo un bellissimo approfondimento culturale d'accordo? approfondimento malnati? d'accordissimo che sta facendo malnati? culturami tutto culturami tutto si malnati che sta facendo che sto scemo malnati marangiolo ma cosa fa? si mette la maschera mentre spiego si prof perché? perché è la stessa che uso anche io veramente la pink rose no grande ma dove l'ha presa? da primark anch'io ma allora adesso no no mesi mesi fa eh scusate come avete detto che si chiama? pink rose la ordino subito ma nati lascia tutta la coglia liscia potremmo andare in giro a pascolare si 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 liscia tutta la faccia liscia tutta si la riforma protestante o scisma protestante è il movimento religioso di Reganelli ma cosa vi fa? prof mi sta tenendo in forma perché? perché io sto spiegando e allora intanto mi sto allenando in giardino dovevo rassodare i glutei Reganelli non mi sfidi prof ma io sono io la regina degli squat come scusi? e uno e due e tre sono io la queen a quarant'è fa male ci siamo tutti ragazzi anzi no manca marangiolo 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 eccomi eccomi scusate presente presentissimo presentissimo eccomi ma le sembra questa l'ora di arrivare eh oh prof c'era traffico ma come traffico? dal bagno alla cucina una coda allucinante guardi lei non è via un code chilometriche ma vada prosegua prosegua non voglio interrompere la sua meravigliosa lezione durante la seconda guerra Nicosia che c'è prof? che cosa sta facendo? sto cercando di truccarmi ma sei a casa? e allora non è che posso apparire come una barbona ogni volta poi se avessi una specchietta a portata di mano ci metterei di meno anzi abbassi la testa? ma chi? io? eh sì e perché? l'abbassi l'abbassi ah perfetto adesso mi specchio benissimo grazie prof sì grazie al ca in uno dei capitoli precedenti abbiamo spiegato le equazioni di primo grado adesso passerei a quelle di secondo grado pagina 54 bannati? ma ragione ma cosa state facendo? siamo bannati prof ah e io che sto cercando di spiegare? sono forse l'unica a voler portare un po' di cultura in queste video lezioni? sì avete perfettamente ragione vamos de fiesta bene ragazzi oggi interrogo ah 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 ma vai ma vieni tanto una vecchia ribambita la prego quando voglio malnati visto che fa tanto il figo interrogato ma come ha fatto a sentirmi prof io il microfono dissi gli ho messo il microfono in casa co 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 come il microfono in casa? sì la controllo in remoto col wifi ma prof io ho anche installato una microcamera dietro alle sue spalle e ho visto che ha tutti gli appunti appesi al muro e non spegna il computer ho collegato una bomba al tasto di spegnimento se lo prende esplode eh la madonna ma cos'è la casa di carta? esatto ma nati esatto ti amo ti amo ti amo brava ti amo ti amo ti amo complimenti ti amo ti amo ti amo ti amo ti amo ti amo